Sei indeciso sulla scuola da scegliere? Il capece ti cambia la vita Prestigioso liceo nel cuore della città di Maglie rappresenta l'innovazione e la professionalità nell'istruzione e nella costruzione del tuo futuro Quattro indirizzi, un solo cuore Liceo classico Liceo scientifico Linguistico internazionale ad opzione spagnola Però no est è Spagna, sino la verdadera E il linguistico Esabac Quest'ultimo in particolare offre la possibilità di scelta della terza lingua fra tedesco e cinese Ma non questo tedesco, il vero tedesco L'unica scuola in Puglia con una sala confucio in collaborazione con la Sapienza di Roma e il governo cinese Con docenti madrelingua che insegnano anche usi e costumi della Cina Nella mia Cina, occhiali dolci e gabbana, non gli facciamo a soli 5 euro Ma non questi usi e costumi, la vera cultura cinese L'obiettivo è proprio questo Aprire la scuola al territorio E favorire l'occupabilità Infatti tramite la conoscenza e la diffusione della lingua, della tradizione cinese Noi puntiamo a far conoscere il nostro territorio e quindi a sviluppare il turismo e l'economia Conseguire la maturità al capece è un preziosissimo viatico per il mondo del lavoro La scuola offre la possibilità di stagi internazionali anche in Spagna E' stato firmato un protocollo con la Camera di Commercio e Industria Italiana Che permette agli studenti di avere un contatto diretto con aziende nazionali ed estere Sono previsti inoltre anche soggiorni estivi e borse di studio per la Cina Nella mia cina, volte europee, grandi market, solo 5 euro Ma non queste borse, le borse di studio per noi sono altre Il passo importantissimo è una tappa fondamentale E si inserisce appieno quest'Aula Confucio nel programma di sviluppo per il mezzogiorno Ovviamente a livello di cooperazione educativa tra Italia e Cina Permette e consente la preparazione per gli studenti per le certificazioni di lingua cinese Oltre che favorire gli scambi culturali, i soggiorni, studio e estivi presso la Cina Professori preparati, aule all'avanguardia, laboratori e strutture sportive Ma non questo sport, quello vero Gli studenti entrano in contatto da subito con il mondo del lavoro Grazie a progetti extracurricolari, scambi interculturali con nazioni estere e una ricchissima offerta formativa Cosa aspetti? Coglia il volo l'occasione e iscriviti Vieni da noi Con il capece Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti